Pensare che abbiamo un governo che arriva alla follia di permettere alle prefetture di requisire proprietà private significa che non viviamo più in un paese civile. Siamo in una situazione in cui l'arrivo degli immigrati è senza controllo e fuori controllo. Le spese che sostengono i cittadini italiani sono enormi, le vittime in mare continuano a essere centinaia ogni mese e a fronte di questa situazione abbiamo un governo che arriva a requisire proprietà private. È intollerabile, quello che sta avvenendo è una vera e propria follia e fa rabbia onestamente che l'unica forza politica che si sta contrapponendo a questa politica scellerata è la Lega Nord. Siamo obiettivamente e oggettivamente soli nel denunciare questa situazione intollerabile e devo dire anche che i rappresentanti delle associazioni di categorie sono silenti di fronte a quello che sta avvenendo e anche questo secondo me è intollerabile, secondo noi è intollerabile se ci sono degli albergatori che subiscono delle ingiustizie dovrebbero essere tutelati. Invece c'è un totale asservimento nei confronti dell'attuale governo che fa sì che ogni giustizia ormai è tollerata e non viene condannata da chi invece dovrebbe tutelare i sacrosanti diritti dei cittadini e di chi cerca di lavorare in una situazione economica così drammatica. La Lega Nord rimarrà in prima fila ad affrontare queste battaglie perché sa di avere dalla propria parte il consenso della stragrande maggioranza dei cittadini italiani. Grazie.